Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a media e lungo termine. Vediamo come si chiuderà il mese di agosto e bene, buone notizie per i vacanzieri di fine mese perché l'anticicola dell'Azore torna a interessare il Mediterraneo e buona parte dell'Europa centro-meridionale. Quindi sole protagonista un po' in tutta Italia a fine agosto. E tra l'altro con temperature non eccessivamente alte. È infatti previsto l'arrivo di aria più fresca nel prossimo weekend e settimana prossima ce la terremo in qualche modo. Quindi caldo simo, un caldo giusto per essere a punta a fine agosto senza punte eccessivamente alte e soprattutto al primo mattino valori anche frizzantini al centro-nord. Insomma davvero buone notizie non solo per chi è in vacanza ma anche per chi ormai è rientrato in città. Grazie. 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 Grazie.